Gianni Amman, uno dei nomi che ultimamente ha preso d'assalto il mondo delle riviste, è di nuovo all'ordine del giorno. Tuttavia, questa volta il motivo non sono i suoi successi nella carriera di attore o i suoi progetti all'estero. Ha suscitato grande scalpore nel mondo delle riviste la notizia che il famoso attore Gianni Amman si è entrato nella casa di Demet Özdemir, con la quale ha interpretato per qualche tempo il ruolo principale e il cui nome è stato spesso coinvolto in voci d'amore, senza preavviso. Questo incidente è stato più di una semplice notizia scandalistica, ha anche scatenato un dibattito sociale. Quindi, Gianni Amman ha davvero fatto irruzione nella casa di Demet Özdemir? Quanto sono vere le accuse? Qual è la verità dietro questo incidente? Attraverso queste domande, esaminiamo i dettagli dell'evento e tocchiamo la dimensione sociale e individuale di tali eventi. Cancelletto storia recente di Gianni Amman e Demet Özdemir. Innanzitutto è necessario ricordare brevemente il rapporto tra Gianni Amman e Demet Özdemir. I due hanno condiviso il ruolo principale nella serie Arkangikus e dopo il grande successo della serie, erano spesso all'ordine del giorno non solo con la loro armonia sullo schermo ma anche con le loro relazioni nella vita reale. Gli ascolti della serie in cui hanno recitato insieme hanno raggiunto il soffitto e tra i fan sono sorte voci secondo cui i due erano insieme nella vita reale. Queste voci sull'amore furono sostituite da voci e tensioni quando la coppia si separò dopo il successo della serie. Tuttavia, né Demet Özdemir né Gianni Amman avevano mai confermato o smentito apertamente questa relazione. I fan del duo hanno mantenuto vive queste affermazioni d'amore sui social media, creando una storia d'amore segreta. Questa complessa dinamica ha fatto sì che ogni sviluppo tra i due nomi famosi abbia un grande impatto. Le ultime accuse sono che Gianni Amman sia entrato senza preavviso nella casa di Demet Özdemir e che i rapporti tra loro siano diventati tesi dopo questo incidente. Presumibilmente Yamana si è recato a casa di Özdemir senza informarlo e questa situazione non è stata accolta favorevolmente da Özdemir. Questa voce, che si è diffusa rapidamente sui social media, è stata ulteriormente alimentata quando l'incidente ha avuto risonanza sulla stampa scandalistica. Tuttavia, prima di entrare nei dettagli dell'accaduto, è utile analizzare le ragioni di tali affermazioni e i loro riflessi sociali. Cancelletto violazione dei confini e della privacy nel mondo delle riviste. Sfortunatamente, tali incidenti non sono nuovi nel mondo delle riviste. La vita delle celebrità è costantemente interrogata da un ampio segmento di pubblico, creando una passione per la visione. Questa situazione è costantemente alimentata dai media e ogni dettaglio sulla vita delle celebrità fa notizia. Ma qui entra in gioco una domanda importante, dove inizia e dove finisce la privacy delle celebrità? Nel caso di Gianni Yaman e Demet Özdemir, se le accuse fossero vere, l'ingresso di Yaman nella casa di Özdemir senza preavviso sarebbe una chiara violazione della privacy. È inaccettabile interferire con la vita privata di qualsiasi individuo, chiunque esso sia. Entrare in casa di qualcuno senza preavviso è una violazione grave, non solo in senso legale ma anche in senso etico. A questo punto è importante ricordare che le celebrità sono anche individui e i loro spazi privati vanno tutelati. Sfortunatamente, i media e i fan spesso ignorano questi confini nel loro desiderio di apprendere ogni dettaglio sulla vita delle celebrità. Cancelletto il concetto di confini e pressioni sociali nelle relazioni. Sfortunatamente, la stampa scandalistica tende a trasmettere gli eventi con un linguaggio sensazionale e a presentarli alle masse senza verificare la realtà degli eventi. Ciò potrebbe danneggiare sia le parti coinvolte che il pubblico. Sebbene non sia ancora chiaro cosa abbia effettivamente fatto Gianni Aman in questo incidente, la presentazione dellincidente da parte dei media con espressioni dure come irruzione in casa potrebbe aumentare le dimensioni dellincidente. Usare un linguaggio più attento e responsabile in tali notizia è importante sia per tutelare i diritti delle persone che per aumentare la consapevolezza sociale. Cancelletto la reazione di Demet Özdemir e le donne che rompono il silenzio. Dopo questo incidente, tutti gli occhi sono puntati sulla reazione di Demet Özdemir. Il fatto che Özdemir rimanga in silenzio dopo lincidente influenzerà anche latteggiamento del pubblico e dei media nei confronti di tali eventi. Il silenzio delle donne, soprattutto dei personaggi famosi, di fronte a tali violazioni può portare alla normalizzazione di tali comportamenti nella società. Tuttavia, il fatto che gli individui, indipendentemente da chi essi siano, denunciano le interferenze nelle loro aree private è uno dei passi importanti da intraprendere per prevenire tali incidenti. È una questione di curiosità che tipo di atteggiamento avrà Demet Özdemir nei confronti di questo comportamento di Gianni Aman. Se questo incidente è vero, se Özdemir prenderà una posizione chiara su questo tema influenzerà anche il dibattito sulluguaglianza di genere e sui diritti delle donne. Anche il fatto che i nomi famosi non restino in silenzio di fronte a tali eventi contribuisce a rafforzare la posizione contro ogni tipo di violazione contro le donne nella società. Cancelletto aspetto legale e possibili conseguenze. Percezione negativa nei confronti di Gianni Aman. A questo punto, avviare il procedimento legale e chiarire l'accaduto davanti alla magistratura è di grande importanza in termini di tutela dei diritti di entrambe le parti. Cancelletto conclusione. Anche se questo incidente tra Gianni Aman e Demet Özdemir sembra un normal pettegolezzo nel mondo delle riviste, coinvolge anche profonde questioni sociali come l'uguaglianza di genere, il concetto di limiti nelle relazioni e la violazione della vita privata delle celebrità. Sebbene la vita delle celebrità attiri l'attenzione del pubblico, non bisogna dimenticare che anche loro godono di diritti individuali. Sarebbe meglio sperare che questo evento aumenti la consapevolezza sull'uguaglianza di genere e sul rispetto degli spazi privati delle donne. Sebbene la realtà dell'incidente non sia del tutto chiara, osservare come tali accuse appaiono nei media e come la società reagisce a questi eventi può fornire importanti lezioni da imparare per prevenire incidenti simili in futuro. Aspetteremo e vedremo come andrà a finire l'incidente e quale atteggiamento assumeranno entrambe le parti in questo processo. Aspetteremo e vedremo come andrà a finire l'incidente e quale atteggiamento assumeranno entrambe le parti in questo processo.